Abbiamo ricevuto da un nostro telespettatore un video di qualche secondo che ci mostra dell'acqua marrone che sgorga dal rubinetto di casa sua. È una scena ripresa in una zona di Montalto Fugo dove, racconta il cittadino, spesso capita di dover fare a meno del prezioso liquido e pare che il fenomeno si sia ripetuto più volte anche in passato. Sentiamo Gianluca Pasqua. Questo è il video che ci ha inviato un cittadino di Montalto. Ecco cosa esce dal rubinetto di casa sua. Le immagini dell'acqua sporca che fuoriesce nel lavandino sono corredate dal suo commento sarcastico. Evidentemente, a giudicare dal tono delle sue parole, non è la prima volta che denuncia questa situazione e non è ancora riuscito a ottenere risposte. In effetti, anche in passato, soprattutto in occasione di guasti alle condotte idriche, non sono mancate segnalazioni del genere, provenienti da diverse zone del territorio di Montalto, in particolare nelle frazioni di Taverna, Settimo, Sant'Antonello e Scalo. Chiamate in causa in passato l'amministrazione comunale ha replicato spiegando che il fenomeno che si presenta ormai da anni a fasi alterne dipende dalle manovre che si effettuano sulle tubature. La chiusura e l'apertura di queste, in presenza di lavori in manutenzione, soprattutto nella stagione estiva, causa il trascinamento di detriti presenti nelle condotte che, inevitabilmente, finiscono per arrivare nelle case, generando il fastidioso e nocivo effetto. Se è così, anche se questa volta non siamo in estate, i cittadini di Montalto dovranno rassegnarsi, perché, sempre secondo l'amministrazione, per evitare questo disagio, sarebbe necessario sostituire chilometri di condotte ormai obsolete, operazione che richiederebbe una spesa ingente che al momento nessun comune potrebbe sostenere. E allora bisogna augurarsi che i guasti alla rete siano poco frequenti, altrimenti, dai rubinetti, continuerà a scendere solo acqua torbida e inutilizzabile. Grazie a tutti, grazie a tutti.